Ciao a tutti da Valeria. Subito dopo il video, Christian Bale e Tom Hardy e la loro sfida per l'Everest. Restate con noi. Che ho la fortuna di poter chiamare mio mentore e mio padre. Il mondo gira tutto intorno a cinque lettere. S-O-L-D-I. Non devi vendere, la società può crescere ancora. Di quanto denaro abbiamo bisogno? Sarei l'uomo più ricco al cimitero. Sì. Un certo Detective Breyer vuole vederla. Manca più della metà dei fondi. Il buco è di 400 milioni di dollari. Ma è ridicolo. Stai rischiando mille anni di carcere. Ti voglio. Più passa il tempo, più bugie si è costretti a dire. Volevi che i clienti facessero bancarotta? Hai mentito. Stavamo per fallire. Che sta succedendo? È mio padre. Devo fidarmi di lui. Detective Breyer è per suo marito. Fissi un appuntamento? La polizia vuole parlarne. E io non voglio mentire per te. Il responsabile non se la caverà soltanto perché è apparso in tv. Che dovrei fare allora? La frode, sesso, potere e denaro sono il tuo miglior alibi. Da marzo al cinema. Ben due progetti entreranno a breve in lavorazione a Hollywood dedicati alla scalata dell'Everest. Protagonisti dei due film saranno il premio Oscar Christian Bale e la star in ascesa Tom Hardy che si erano confrontati già nelle vesti di Batman e del cattivo Bane nel Cavaliere Oscuro Il Ritorno di Christopher Nolan. Tom Hardy interpreterà uno scalatore britannico degli anni venti che morì nel tentativo di realizzare la sua impresa mentre Christian Bale è in trattative per entrare in una spedizione cinematografica con direzione Everest. I fatti, anche in questo caso ispirati alla realtà, sarebbero molto più recenti però del 1996 quando si svolse una tragica spedizione che costò la vita a diversi alpinisti. Vi aggiorneremo presto con altri dettagli sui due progetti. Per oggi è tutto. Ricordatevi come sempre di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Antiprima Cinema. Ciao!